Anche la città di Agropoli a distanza di giorni torna a registrare dei nuovi positivi al covid-19 ed ieri sera infatti il nuovo report di contagi comunicato attraverso una nota stampa del sindaco Adamo Coppola. L'aslami ha aggiornato in merito a 11 nuovi casi di positività al covid-19 nella nostra città in parte legati a catene di contatti precedenti. Nel contempo c'è anche una guarigione quindi il dato dei positivi attuali sale a 44 mentre il numero di guariti dall'inizio della seconda fase della pandemia è di 107 persone. Ci aspettavamo un incremento di casi in questo periodo. Raccomando a tutti, sottolinea il sindaco, di osservare le prescrizioni anti covid-19.